buongiorno risolviamo la seguente equazione x alla seconda meno 16 uguale a 0 ora notiamo che x alla seconda meno 16 è una differenza di quadrati quindi posso riscriverlo facendo la radice quadrata del primo termine e la radice quadrata del secondo termine quindi la radice quadrata del primo termine x più la radice quadrata del secondo termine che è 4 per sempre x meno 4 uguale a 0 ora poniamo ambo i termini tra parentesi uguale a 0 quindi abbiamo x più 4 uguale a 0 e x meno 4 uguale a 0 portiamo a questo punto i termini numerici al secondo membro e otteniamo dalla prima equazione x uguale a meno 4 dalla seconda x uguale a 4 e questi due appunto sono i risultati x uguale a 4 e x uguale a meno 4 grazie arrivederci